ok sono tutto appiccicato l'un all'altro quindi ma come te sei scaricato c'è un'applicazione per quello che fa? ha detto vuoi scaricare il pdf? ah perfetto! ha detto vuoi scaricare il pdf? ha detto si? ha detto vuoi avere con il pdf? si io faccio pure le riprese così almeno l'assicurazione sa perché grazie a voi va 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 ci va 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 Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no. a tutti. 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 grazie. 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 a tutti. a tutti. a tutti.